Mentre Totti sarà ospite a C'è posta per te sabato 26 febbraio, Francesca Fagnani rivela al messaggero che Ilari Blasi sarà presto ospite di Belve con una pungente intervista. Ilari Blasi sarà presto ospite a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. Lo ha confermato la giornalista che in un'intervista rilasciata a Il Messaggero ha chiarito che la puntata in programma non è ancora stata registrata in studio e dunque andrà in onda prossimamente. Inevitabile, sarà parlare della presunta crisi che la conduttrice Mediaset starebbe attraversando con Francesco Totti. In vista del loro incontro, Fagnani ha già commentato la notizia, ho il cuore infranto. Se fosse vero che si sono lasciati mi dispiacerebbe. La partecipazione di Ilari Blasi al programma di Rai 2 non sembra essere un caso, in virtù del fatto che poche settimane prima il marito Francesco Totti ha accettato di essere ospite a C'è posta per te, senza la sua consorte. L'ex capitano della Roma sarà infatti protagonista di una sorpresa nella puntata del programma di Maria De Filippi in onda sabato 26 febbraio. Insieme a lui, anche Raul Bova. Insomma, la coppia Totti-Ilari sta prendendo una serie di appuntamenti lavorativi sempre più divisi, dai quali ci si può aspettare rivelazioni bomba sul gossip del momento. Il gossip sulla rottura della coppia resta ancora aperto. Ad oggi, si è vociferato di una crisi che Francesco e Ilari starebbero vivendo, che non esclude ragioni economiche. Nonostante il loro rapporto sarebbe deteriorato, l'ipotesi separazione risulterebbe complessa per via del patrimonio milionario che condividono. Inoltre, si dice che l'ex capitano abbia avviato da oltre un anno una frequentazione con un'alta donna, tale Noemi Bocchi, tifosa della Roma, assidua frequentatrice dell'Olimpico, che con Totti condivide la passione per il peddol. Al momento, da parte della diretta interessata, non è arrivata alcuna conferma né smentita. Al momento, da parte della coppia resta ancora aperto. Al momento, da parte della coppia resta ancora aperto. Al momento, da parte della coppia resta ancora aperto. Al momento, da parte della coppia resta ancora aperto. Al momento, da parte della coppia resta ancora aperto.